E' deceduto all'età di 57 anni il consigliere comunale Andrea Marino. La dipartita è avvenuta nella notte all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, dove si trovava ricoverato, da tempo stava male. Attualmente era consigliere comunale a Marsala, in passato lo era stato anche a Petrosino. Durante la sua attività politica si era sempre contraddistinto per caparbietà e senso di lealtà.